Sono stati ristretti ai domiciliari i due ragazzi che hanno seminato il panico a Esernia nelle scorse ore. Si tratta di un uomo e una donna, i Sernini, giovanissimi e darci note alle forze dell'ordine. Sono stati fermati ieri dai carabinieri mentre erano in fuga a lungo corso risorgimento dopo aver rubato 400 euro dalla cassa di una pizzeria di via Umbria. I due si sono introdotti nell'attività durante l'orario di chiusura forzando una finestra sul retro e dopo aver ripulito il registratore di cassa hanno tentato di dileguarsi. Sono stati però notati da alcuni passanti che immediatamente hanno contattato i carabinieri. Se non fossero stati arrestati in flagranza di reato, probabile che sarebbero stati ugualmente portati in caserma di lì a poche ore su un mandato del giudice. Perché con ogni probabilità i due ragazzi, già ribattezzati dall'opinione pubblica Bonni e Clyde, sono stati i protagonisti dei tre furti avvenuti la notte scorsa ai danni di un negozio di piante e fiori, di un pub e di un negozio di gadget per ragazzi. Per la città di Sernia è la fine di un incubo, poiché la gente iniziava seriamente ad aver paura. Bisogna tuttavia rimarcare che sia per la rapina al supermercato di San Lazzaro, sia per i furti nei tre negozi, le forze dell'ordine hanno provveduto tempestimamente ad assicurare i responsabili alla giustizia. Dicevamo di Bonni e Clyde, ristretti ai domiciliari, in attesa del processo. Possibile sia stata la tossicodipendenza a spingere i due ladri, a delinquere in pieno giorno e in pieno centro, non curanti della videosorveglianza e del livello massimo di allerta raggiunto dalle forze dell'ordine. A prescindere da ogni considerazione di sorta, gli Sernini hanno tirato un sospiro di sollievo.